Aida Espica e Jeremias sempre più vicini, gli ultimi gossip parlano chiaro Aida Espica e Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, stanno insieme? Gli ultimi gossip. Il grande fratello Vip è finito da settimane ma la storia tra Aida Espica e Jeremias Rodriguez è più viva che mai I due non stanno ancora insieme ma gli ultimi gossip parlano di un'intesa, di un feeling che non è mai scemato Anzi, è diventato ancora più forte e solido Il settimanale Spy, nell'ultimo numero in edicola, ha rivelato che la venezuelana e l'argentino si sono rivisti ad un recente evento a Milano Marittima dove erano presenti anche altri personaggi della seconda edizione del reality show Aida e Jeremias hanno fatto il possibile per evitarsi, solo un timido saluto e qualche battuta Un atteggiamento alquanto strano per due che si sono sempre professati molto amici, i due si sono forse lasciati andare ad una tresca segreta come ipotizza la rivista Mondadori? Il gioco di sguardi tra Aida e Jeremias dopo il grande fratello Vip Accuratamente hanno evitato che i fotografi potessero immortalare qualcosa di riconducibile alla parola romantico Ma noi di Spy c'eravamo e abbiamo visto, sfiorato, paparazzato i giochi di sguardi tra i due Sotto l'albero siamo sicuri che arriveranno le sorpresi del cuore per Jeremias e Aida si legge sul magazzine lanciato da Alfonso Signorini I due inizieranno presto una relazione alla luce del sole? Chissà e per il momento la jespica è tornata single, ha lasciato il fidanzato Geppi conosciuto la scorsa estate grazie ad amici in comune Il fratello di Belen, invece, è tornato tra le braccia dell'ex fidanzata Sara La storia non va però a gonfie vele, i tira e molla del passato sono ricominciati e pare che la modella milanese sia piuttosto turbata per la vicinanza tra il sudamericano e l'ex delfina Aida esplica e Jeremias Rodriguez, i messaggi segreti tra i due In particolare Sara non avrebbe gradito i messaggi sul telefonino che Aida e Jeremias si sarebbero scambiati dopo la finale del grande fratello VIP Come andrà a finire? Come andrà a finire?